No, invece prima dicevi che il reggae può sembrare semplice da suonare ma non lo è Vuoi elaborare? Elaborare questa cosa No, dalla Lynch Allora, la cosa che ho notato io è che come ogni genere, secondo me, ogni genere ha la propria attitudine Ogni genere ha la propria cultura, la base, ogni genere ha le sue sfaccettature tecniche o comunque di sound, di un sacco di cose La cosa che ho notato quando ho cominciato a suonare reggae è che pur sapendo suonare un po' di pop, un po' di rock, un po' di metal, un po' di jazz, un po' di questo, un po' di quello O comunque partivo da zero Cioè se quando ho suonato, non so, blues, un po' ce l'avevo Quando sono passato al funky, c'è voluto un po' per addrizzarmi, però Avevano una radice comune Avevano una radice comune, probabilmente il reggae è una cosa diversa Lì ho dovuto proprio ripartire da zero Anche perché devi sintetizzare quello che fai Cioè il tuo playing deve essere essenziale, servire il pezzo E tutto un altro modo diverso di vedere la canzone Anche perché tendenzialmente la chitarra nel reggae ha una funzione ritmica Esatto Che è una cosa Inusuale Inusuale rispetto a tanti altri geni Esatto, esatto In cui però tra l'altro, scusate Perché questo discorso qua era proprio Nel senso che la tua chitarra, nei mello mood, credo che dia anche una firma alla loro musica Nel senso che tu si sente che ci metti delle, un qualcosa che non è solo reggae Sì Ci metti delle cose che non sono solo la chitarra ritmica magari Che ha il ruolo principale nel reggae Esatto Ci metti molte frasette anche melodiche, no? Esatto Si sentono queste influenze più jazzistiche Il punto è, quindi cosa hai fatto quando hai detto Cazzo, devo suonare reggae e parto da zero? Cos'è che hai fatto? Allora Hai preso dei dischi? Sì Ti hanno detto loro cosa ascoltare? Sì Sicuramente Si parla le due finestre E poi io sono Hai un tab, cioè una finestra con un twitch Sono molto curioso, quindi sono andato a cercarmi alcune cose A me piace sia ascoltare le cose attuali Come si rapportano i musicisti attualmente di quel genere, eccetera Chi è in trend, diciamo, dov'è il trend Esatto Ma anche ascoltare le cose vecchissime Secondo me è utile per tutti i generi Ascoltare le cose vecchie, i dischi storici e quant'altro E da lì ho appreso un po' piano piano il linguaggio Ho cercato di capire come facevano fare quel suono lì e quant'altro E il risultato è stato non ce la farò mai Ah, scoraggiante Sì Rispetto ai dischi storici E anche perché effettivamente chissà che strumentazione hanno usato Molto probabilmente avevano quello che avevano Non avevano chissà che strumentazione E non si sa niente, non ci sono foto, non ci sono video Quindi è molto difficile riprodurre quel tipo di sound Tant'è che piano piano voglia o no Cioè sembra anche quasi che mi vanti di sta cosa Ma piano piano ho creato il mio sound per sopperire un po' a quella lacuna Perché è irriproducibile Sì è irriproducibile Beh comunque non la vedo come una cosa brutta No, no, no